Gianluca Brambilla, ti piace il percorso italiano del Giro d'Italia 2012? Devo ancora vederlo in bici, però mi piace molto sulla carta e speriamo che anche in bici sia bello come è sulla carta. Tu eri considerato tra gli under 23 un grande finisher, hai già identificato la tappa adatta a te? Diciamo che le tappe adatte a me vengono quando ci si sveglia la mattina e si sta bene e si sente che la gamba c'è perché il giro è lungo e anche l'anno scorso ho visto che magari le tappe erano adatte a me però la gamba non era buona dunque bisognava aspettare la giornata giusta fisicamente e poi che si adatti anche al percorso. Hai pensato di correre questo Giro in funzione della classifica generale, in funzione magari della maglia rosa o del podio? Ma io parto a questo Giro pensando di vincere una tappa e poi tutto il resto che viene diciamo che sono contento così. Senti una domanda di carattere anche pubblicitario, quando tu vai forte il merito è della componentistica dei elementi? Sicuramente sì, sono buoni materiali e adesso ci hanno dato anche dei manubri un po' più recenti a crono e sicuramente sì. Ti trovi bene con gli attacchi, con i manubri, con tutto? Vuoi dare qualche suggerimento a Fulvio Acquati, a Luca Locatelli, a tutto lo staff dei elementi? Penso che debbano continuare a ricercare nuove soluzioni e nuovi materiali perché comunque il ciclismo e soprattutto la componentistica va sempre avanti, si ricerca sempre le cose più leggere però non bisogna cercare solo la leggerezza, bisogna anche cercare la sicurezza e la comodità. Non mi riferisco solamente ad Eda ma a tutte le parti della bicicletta diciamo.